Buonasera a tutti, sono poco passate le otto, quindi direi di iniziare lasciando la parola al Vice-Segretario Dottor Dalbello che, come anticipavamo adesso, sostituisce il Dottor Loris Grando in questo periodo quanto Vice-Segretario Comunale e della Convenzione, in quanto il Segretario Loris Grando dal primo di febbraio ha preso servizio presso il Comune di Azzano e Chions che sono in Convenzione assieme e quindi abbiamo, in questo momento ovviamente stiamo approfittando della figura del Vice-Segretario al quale lascerei la parola. Cappelletto Matteo, Fanton Rita Elisa assente, Pezzotto Giorgio assente, Pelizzon Stefano dovrebbe collegarsi, ha già collegato quindi presente, Marchiori Mauro, Bortoluzzo Tiziano, Antoniazzi Renza, Simonella Davide, Tuis Marfa, Parpinel Flavio, Tollardo Francesca, Terribile Elisa, Canali Giuseppe, Riccato Luca Ettore, De Stefani Gianluca, Cibin Cristina e Prataviera Silvia. Bene, il numero legale c'è. Esecuzione all'inno nazionale. Esecuzione all'inno, Esecuzione all'inno, Esecuzione all'inno, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, anche online. No, un consiglio dico perché non sento… Sì, Stefano sì. Ah, ok. Grazie. Allora, la legge regionale 44-87 dispone che i comuni debbano riservare una quota annua pari all'8% delle opere di urbanizzazione primaria secondaria a favore di attività che riguardino la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di realizzazione che rientrano nelle categorie di opere religiose. E quindi le varie confessioni religiose che vengono riconosciute ai sensi della norma statale del concordato tra Stato e Chiese possono fare richiesta appunto di poter accedere a questo fondo. Per il 2023, 2022 e 2021, perché negli anni scorsi non sono stati richiesti, si sono accantonati 14.675,16 Euro. E' arrivata la richiesta della parrocchia di San Stino e quindi vista questa unica richiesta viene devoluto questo importo alla parrocchia di San Stino per le attività legate alla manutenzione della Chiesa Santo Stefano. Grazie, se ci sono interventi, altrimenti poniamo in votazione la ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le Chiese e gli altri edifici religiosi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il terzo punto all'ordine del giorno è quello relativo all'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2023. La parola sempre al Vice Sindaco Pellizzo. Bene, per quanto riguarda le tariffe tari, come saprete, il piano economico finanziario non viene più approvato dal Consiglio Comunale ma ne viene preso atto poiché il soggetto che ha la titolarità per approvarlo è il Consiglio di Baccino, nel caso specifico Consiglio di Baccino Venezia Ambiente. Questo piano economico finanziario è stato approvato l'anno scorso dal Consiglio di Baccino ed ha una validità anche per l'annualità 2023. Ai consigli comunali, oltre ad una presa d'atto che è stata fatta l'anno scorso, resta il compito poi di suddividere il piano economico finanziario tra utenti domestici e non domestici e aggiungere eventuali detrazioni o costi che fossero al di fuori del piano economico finanziario. Il piano di quest'anno è complessivamente di 1.717.533 euro che sono insostanzialmente 25.308 euro più dell'attari dell'anno 2022. La suddivisione tra quelle che sono le attività e i soggetti domestici vede una divisione pari al 68,94% per le forniture per gli utenti domestici e 31,06% per i non domestici. Questo dato è leggermente diverso da quello dell'anno scorso perché ogni anno viene fatta una ricognizione sulla base dei dati dei clienti domestici e non domestici e quindi c'è regolarmente un leggero scostamento tra questi valori. Il valore più significativo, quello che sicuramente è l'elemento più caratterizzante del PEF 2023 rispetto a quello del 2022 è la parte che ricarica sotto la voce costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani. Questa voce è una voce che è stata in aumento di 67.916 euro. D'altro canto ci sono state altre voci che hanno visto una riduzione e per esempio un aumento invece riguarda, un aumento che però va a detrarsi dai costi complessivi è quello delle detrazioni derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. Quindi rispetto all'anno precedente sono stati recuperati quasi 5.000 euro in più. Questo come dicevo prima, complessivamente appunto il valore poi da mettere a tari è di 1.717.533 e il valore che dicevo prima, cioè quello che ha aumentato maggiormente, cioè costi di attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani sostanzialmente afferisce per la gran parte ai costi di recupero del secco perché questo ha avuto un aumento negli ultimi anni derivante da sostanzialmente la chiusura dell'utilizzo del nostro secco nell'impianto di fusina dove andava all'interno della centrale elettrica Palladio con combustione col carbone e sostanzialmente siamo rimasti scoperti per un paio d'anni e successivamente è stato attivato invece l'impianto di Veritas che prevede il trattamento e il recupero appunto della frazione secca, quindi andando un po' a ridurre questi costi che invece erano aumentati particolarmente perché vedevano la gestione del secco dover in alcuni casi trovare altre vie all'interno dell'Italia, quindi inceneritori o termorizzatori di altri soggetti oppure anche di discariche al di fuori dell'Italia, quindi questi costi appunto hanno pesato principalmente in quello che è appunto il dato complessivo considerando anche che tra le altre attività la RERA che sapete è l'autorità di regolazione per l'energia e reti e ambiente ha previsto tra le altre cose dei costi in più derivanti da obblighi rispetto al rispetto di valori di qualità commerciale, come dicevo la suddivisione appunto tra domestici e non domestici è 68,94% per i domestici e i non domestici 31,06% e questo vuol dire che complessivamente i costi per le utenze domestiche sono di 1.184.067 euro e per quelle non domestiche sono 533.466 euro. Ecco questo diciamo in estrema sintesi è il dato legato appunto a quello che è la suddivisione della Tari per l'anno 2023. Come abbiamo detto poi già in commissione sicuramente le attività congiunte tra RERA e il Consiglio di Baccino hanno di fatto svuotato un po' le competenze dei Consigli Comunali e anche quel rapporto privilegiato che c'erano tra i comuni e i propri gestori, è stato un po' tutto portato ad un livello diverso che ha sicuramente inficiato sulla capacità dei comuni di poter essere effettivamente padroni a pieno titolo di quello che è il destino della tassa dei rifiuti. Io mi fermerei qui e poi se ci sono domande, osservazioni, disposizioni. Grazie, è aperto il dibattito. La parola al capogruppo Canali. Grazie, buonasera. Microfono nuovo e quindi è un'altra musica. Puntualmente ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio si devono approvare tutta una serie di atti collaterali che lo vanno a formare e quindi puntualmente anche qui ogni anno c'è questa approvazione dell'attari e sulla quale c'è sempre lo stesso dibattito da un certo punto di vista perché è sempre in aumento e nonostante l'impegno dei cittadini e delle aziende nel riciclare il più possibile i costi aumentano. Anni fa erano per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti, poi per l'aumento del costo del gasolio l'annualità successiva, poi perché la Cina non comprava più la carta e avevamo i depositi in giro pieni di carta e quindi non riuscivamo a monetizzare. Adesso perché la Rera gestisce lei a livello sovracomunale attraverso l'ambito di bacino si fanno loro i ragionamenti, puntualmente comunque noi ci troviamo sempre di fronte a un aumento dei costi. e ci troviamo anche di fronte al fatto che non sempre vengono regolarmente pagate le bollette e quindi l'amministrazione deve andare a copertura del fondo crediti di dubbia esegibilità con delle somme che sono lì impegnate e che potrebbero essere invece impegnate in altre situazioni. ci viene sempre detto anche che l'attività di recupero poi viene stornata nell'anno successivo però come abbiamo anche già fatto presente in commissione dove ci sono anche state rappresentate le difficoltà che ci sono eventualmente ad andare al recupero delle somme però questa attività è esigua rispetto all'ammontare di quanto non viene pagato, quanto non viene versato perché quest'anno se non leggo male ci sono solo 10.163 euro di entrate da recupero di evasione che incidono per l'1% forse neanche rispetto all'ammontare di quanto andiamo a pagare. e quindi noi crediamo che rispetto a come dicevo prima all'inizio l'impegno che hanno i cittadini, l'impegno che hanno le dite nel cercare di raggiungere e siamo anche puntualmente riconosciuti tra i comuni più ricicloni un riverbero rispetto a questa attività sulla bolletta non si nota non si nota da diversi anni e credo che sarà sempre peggio perché poi quest'anno siamo entrati in una situazione nel quale il piano finanziario è spalmato su 4 annualità e quindi da quello che ho capito gli ambiti di intervento sono stretti e hanno poca efficacia nell'abbassare le tariffe e quindi c'è anche un invito a nostro avviso a ripensare un attimo alla tabella delle tariffe utenze non domestiche perché confrontando anche con realtà a noi vicine i parametri che il comune di questa amministrazione applica diciamo che non sono molto in linea con quelle delle realtà vicine e questo come posso dire ha dei riflessi anche sui bilanci delle attività aziendali grazie ci si ripropone ogni anno questo che è un atto praticamente dovuto che secondo me a questo punto si passa direttamente senza farci perdere dell'inutile tempo anche perché poi queste discussioni a noi ci appassionano noi notiamo ultimamente il distacco dalle persone, dalla politica molta gente non va più a votare perché tanto non cambia niente ecco uno dei motivi è questo perché se io partecipo a tenere pulito il mio paese contribuisco a cercare di fare meno secco che riesco a fare alla fine paura uguale o addirittura come succede spesso ultimamente trovo le mie bollette pur con decimali per carità però aumentate credo che il mio impegno civico insieme alla mia voglia di votare cominciano ad andare un po' a scemare invito però laddove si può lavorare e adesso ho vado tutto sulle tariffe a dare un'occhiata nel senso che voglio dire è vero che la gran parte purtroppo è stata una scelta è sulle utenze domestiche quindi gran parte dei cittadini normali ma per quanto riguarda la parte che riguarda le aziende ci sono alcune categorie che supportano un peso superiore ad altre e quindi io invito a dare un'occhiata alle tariffe perché si potrebbero spalmare in un altro modo soprattutto laddove abbiamo visto che poi in alcuni casi sono delle autentiche mazzate nel senso che tutti ormai conosciamo che l'APO è composta da una parte fissa e quindi chi ha metri già è penalizzato e più una parte diciamo così mobile che poi non risponde al fatto della quantità di rifiuti che si fanno ma sia un calcolo esclusivamente matematico che non so da dove esce e che i presupposti ha perché io guardo non dovrei neanche parlare perché sono direttamente interessato ma un negozio di frutta e verdura che paga 29 euro al metro e secco fa zero è un assurdo secondo me penso ai ristoranti penso a tutte quelle categorie che sono penalizzate fortemente da questo tipo di e che rischiano di avere un costo aggiuntivo nella gestione delle loro aziende che può penalizzarli fortemente stesso discorso è per quanto riguarda quel famoso fondo che abbiamo messo a parte ne abbiamo discusso in maniera ampia in commissione bisogna tendere a tenere basso in maniera che visto quella famosa regola che stabilisce che bisogna sullo storico eccetera mettere a parte perché altrimenti immobilizziamo delle risorse che potrebbero essere usate per altro e magari anche una parte di queste per incentivare la capacità del cittadino ulteriormente se è possibile anche se abbiamo capito ormai da le numerose discussioni che abbiamo avuto con i dirigenti di ASVO pensare che avere zero secco è praticamente impossibile avremo sempre questa quota che purtroppo ci costerà e non risolveremo neanche se cambiamo un modo di impacchettare la roba e cambiare la roba perché ci sono sempre delle cose che purtroppo anche se abbiamo visto con l'ultima sessione che abbiamo potuto mettere alcune cose non più sul secco ma sulla plastica eccetera comunque agevolato alcuni passaggi tendere allo zero è praticamente impossibile credo che i cittadini sestinesi sotto questo punto di vista vadano elogiati perché hanno fatto un grandissimo lavoro anche quest'anno e quindi andrebbero premiati questo non mi pare sia il metodo il modo migliore è anche vero che non ne avete una responsabilità diretta nel senso che purtroppo anche voi accettate e dovete per forza di cosettare io capisco che anche il business dei rifiuti sta diventando una cosa importante non lo vogliono mollare nessuno ad andare a squazze che era una roba vergognosa adesso sembra che tutti non vogliono assolutamente mettere piede però far mettere piede però dico se noi ragioniamo in questo modo dovremmo far capire a qualcuno che continuare in questo senso togliamo la gente la voglia di primo di scegliere i rifiuti fare un'attenta differenziata due che se le decisioni sono sempre prese ad altri livelli e vengono calate dall'alto il distacco e il rifiuto nasce anche perché questa qua sta diventando non più una tariffa su un servizio ma sta diventando una tassa occulta e noi tutti sappiamo che per quanto bene facciano le tasse sono sempre viste come e che siano utili e bisogna pagarle però è anche vero che quando tu vedi che il tuo sacrificio non viene ripagato sicuramente paghi con meno soddisfazione e soprattutto partecipi con meno soddisfazione grazie grazie non so ci sono altri interventi se non ci sono vai vai sì no allora alcune cose sì ce le siamo già detti anche commissione altre un po' ce le diciamo da tempo e alcune preoccupazioni sono sicuramente condivise anche da noi perché effettivamente come già si diceva sarebbe meglio che e non penso che non penso neanche che manca tanto perché se arrivi a questo che le tariffe vengano direttamente decise non solo le tariffe ma proprio anche la divisione delle tariffe e tutto quello che regola questo mondo venga diviso dal consiglio di bacino perché effettivamente se dobbiamo fare se questa è la nostra capacità di di deliberare sul tema forse è meglio non farlo proprio ecco in effetti è vero che poi Rai fa tutta una serie di ragionamenti standardizza e quant'altro il problema è che quando Zinzionina fa queste cose l'abbiamo visto bene per esempio sul settore idrico tendenzialmente chi a chi va peggio diciamo è è quel settore quella quell'area quell'area anche geografica ma non solo geografica sono quelle aziende che già facevano bene nel senso che vanno a caricare dei costi in più per delle attività che non erano necessarie perché bilanci erano in ordine le attività erano in ordine ma che di fatto appunto diventano dei costi in più facevo prima l'esempio del degli obblighi sulla qualità commerciale che vuol dire che tu devi rispondere entro determinati tempi a determinate richieste questo non è che prima non si facesse ma c'è bisogno di tutta una reportistica e di un'attività collegata che è molto onerosa e prende tempo e costi era una cosa di cui come dire noi non sentivamo particolarmente l'impellenza perché appunto il nostro servizio tendenzialmente è buono però questo fa sì che ci sono dei costi in più che potremmo tranquillamente risparmiarci devo dire che sicuramente è vero che più si allontanano le decisioni dal territorio e più c'è un distacco del cittadino dell'elettore dal mondo della politica in un certo senso questo è sicuramente vero per quanto riguarda il tema generale che l'Atari è sempre in aumento insomma questo non è stato sempre così ci sono stati diversi anni in cui è stata ferma anni in cui è scesa anni in cui è risalita però bisogna anche sempre considerare che stiamo considerando cioè che che dobbiamo valutare un'attività come se fosse un'attività e lo è industriale cioè noi forse siamo sempre stati abituati a pensare soprattutto nel passato che invece questa fosse un'attività slegata in un certo senso da queste logiche perché perché i comuni diciamo coprivano una certa quantità di quei piani economici finanziari con risorse dirette dell'ente e quindi la trasposizione nelle bollette era come dire politica ecco in un certo senso questo può essere giusto sbagliato qua potremmo aprire un dibattito infinito e non ha senso farlo però voglio dire nel momento in cui si coglie il fatto che questa diventa un'attività industriale come tutte è soggetta agli avanzamenti le modifiche ai costi che sono quelli che vivono tutti cioè se domani mattina uno va a fare la spesa oggi o la fatta in questi giorni vede bene come determinati prezzi siano aumentati siano cambiati in funzione di quello che è la situazione globale e in particolare quella italiana per cui come dire neanche i rifiuti in un certo senso esulano da queste logiche perché il gasolio per i camion costa di più la benzina costa di più l'energia elettrica costa di più il gas eccetera eccetera e poi giusto che qui vengano messe in campo tutta una serie di politiche per fare in modo che queste vengano cioè che l'impatto di queste risorse scusate l'impatto di questi costi per questo tipo di aziende sia il più possibile ridotto questo fuori di dubbio però come dicevo è questa cosa qui come dire nasce dal fatto che non è che il mondo dei rifiuti sia escluso dalla come dire dalla vita reale fa parte della vita reale con ciò che ne consegue nel bene e nel male per quanto vado un po' a punti di quello che mi avete chiesto il fondo crediti e dubbi esigibilità piacerebbe particolarmente anche a noi poterlo ridurre solo che viene costruito e messo in bilancio sulla base di quelli che sono i principi contabili che ci vengono dati per cui se dobbiamo mettere adesso vado a memoria ma insomma poco più di mezzo milione di euro lo dobbiamo mettere perché i parametri dicono che dobbiamo mettere mezzo milione di euro se potessimo mettere nel 100.000 saremo ben felici anche noi poi non vuol dire che mettere mezzo milione di euro sul fondo crediti e dubbi esigibilità vuol dire che abbiamo su un milione e sette mezzo milione che non viene pagato perché non è così alla fine quello che poi insomma però è chiaro che è un'attività che dura anni cioè nel momento in cui ASVU emette le bollette a quando si chiude tutto facciamo caso non so 2022 nel momento in cui viene chiuso completamente l'attività di discussione per l'anno 2022 cosa che avviene n anni dopo cioè oltre a quelli che li pagano regolarmente poi c'è tutta un'attività ovviamente prima buonaria poi meno buonaria eccetera eccetera che fa sì che appunto alla fine si chiuda poi quell'anno non è che come dire non è pagato mezzo milione di euro di bollette mediamente negli ultimi anni erano 20 30 mila probabilmente l'anno 20 21 potrebbero risentire ovviamente delle fatto covid quindi potrebbero essere un po' di più però queste sono le cifre di cui stiamo parlando che per carità sarebbe meglio che non ci fossero o fossero più basse però sono cifre ecco un po' diverse per cui il recupero di evasione 10.603 euro deve essere letto in funzione di quelle non in funzione del mezzo milione perché altrimenti come dire il rapporto è chiaro che non è completamente centrato per quanto riguarda quello che stavate facendo facciate riferimento al metodo sulla suddivisione ecco per le attività del diciamo poi della parte dei non domestici allora lì io non so a che comuni fate riferimento poi mi farà piacere anche sentirlo non è che quello che viene toccato generalmente non vengono toccati i parametri perché i parametri all'interno dei quali si può giocare per la suddivisione i cosiddetti K che sono delle costanti insomma vengono insomma discendono dal cosiddetto metodo normalizzato del decreto 158 99 e hanno un range minimo e massimo in funzione che il comune si trovi nel nord Italia centro sud e se non ricordo male anche in funzione della fascia della dimensione del comune quindi c'è un piccolo diciamo intervallo entro cui si può giocare ma non fa cambiare complessivamente le cose anche perché se si toccano vanno toccati tutti da una parte o dall'altra non è che possa aumentare entro quel parametro generalmente tutto in più a forse le banche e ridurlo tutto a supermercati ortofrutta ci deve essere come dire una certa omogeneità quello che può cambiare e che sicuramente cambia ed incide sul poi su quello che è il calcolo finale è la suddivisione invece del totale del diciamo del piano economico finanziario tra domestiche e non domestiche per esempio se non ricordo male Concordia ha forse l'inverso delle per fare un esempio ha l'inverso della nostra suddivisione per cui ha il tipo 70% non domestiche e il 30% domestiche questo per prendere un caso che è molto diverso dal nostro e lì ci sono e c'è anche qualche non mi ricordo quale comune che ha probabilmente un ulteriore diciamo sbilanciamento ecco verso le domestiche rispetto alle non domestiche forse è quello diciamo quello che determina il valore diverso perché voi leggete l'importo 24 euro al metro quadro 21 euro al metro quadro e magari in un altro comune leggete 17 16 24 ma non è dato da come vengono suddivise tra le tra le categorie all'interno del diciamo dei parametri ma sul fatto che come dicevo prima ci sia una suddivisione tra domestici e non domestici questo è tendenzialmente il valore e anche lì quelli che sono questi parametri e così da mettere normalizzato sono stabiliti e il principio da cui si ispira ovviamente quel metodo è il metodo di chi più inquina più paga perché non c'è solo il secco ma ci sono anche altri elementi che per esempio incidono sui costi del piano economico finanziario in particolare l'umido l'umido è un costo ed è un costo non elevato come il secco ma chiaramente che ha un suo riflesso importante per finire con l'ultima cosa concordo perfettamente che gli stagini sanfino sono collaborativi e bravi nella gestione della raccolta differenziata e di questo non possiamo che ringraziarli è chiaro che anche a me piacerebbe fare in modo che quello sforzo venisse direttamente riflesso nelle tariffe però magari lo ricordo che forse non l'ho detto prima noi stiamo valutando un natari 2023 che appunto per le norme dell'autorità in realtà riflette i costi del 2021 quindi abbiamo uno spostamento di due anni che non aiuta minimamente i cittadini a avere come dire un più o meno diretto confronto con il loro sforzo perché per fare l'esempio nel 2022 a seguito dell'introduzione del nuovo metodo sul secco siamo passati dall'83% all'86 virgola 31 questo ovviamente considerando che abbiamo avuto solo sei mesi di applicazione se avessimo fatto tutto l'anno quindi solo il 22 con il sistema nuovo avremmo fatto più o meno l'88 89% e la quantità di secco che partiva da 76 tra i 67 kg per abitante nel 2021 è arrivata nel 2022 a 59,69 quindi è calata di quasi 20 kg pro capite e se anche qui se avessimo avuto tutto l'anno con il sistema nuovo sarebbe stato all'incirca di 49 kg pro capite quindi quasi 30 kg di secco in meno questo come dicevo è sicuramente un grandissimo risultato dei cittadini che fanno bene la raccolta differenziata e come dicevo anche a noi piacerebbe in qualche maniera dare un riscontro diretto però siamo anche stati sempre molto onesti quando abbiamo fatto gli incontri con la cittadinanza dicendo subito guardate che purtroppo non può essere così diretto questo riscontro ma sicuramente questa attività aiuta a comunque cercare di contenere quei costi perché se io se tutti i cittadini in Sanstino non avessero fatto questo sforzo la quantità di secco sarebbe stata molto più alta e quindi nel calcolo che si farà nel 2024 perché il 2022 verrà calcolato nel 2024 ovviamente quello si sarebbe determinato in un aumento magari ancora maggiore perché la quantità di secco sarebbe stata più alta e quindi è comunque uno sforzo che porta dei vantaggi è chiaro che purtroppo non vedere il segno meno sulla bolletta rispetto all'anno prima non aiuta io dicevo che avrei proposto ad Asvo di pensare di scrivere sulle bollette sotto all'importo che viene pagato un paio di righe dove riportare quanto sarebbe stato più alto in percentuale perché poi diventerebbe difficile fare un calcolo per ogni singola bolletta ma in percentuale quella bolletta se la raccolta differenziata invece di essere stata all'83% fosse stata al 70% o al 50% questo potrebbe almeno aiutare un po' le persone a capire che comunque il loro sforzo non è stato vano poi per carità come dicevo operazione non facile grazie la parola consigliere ricatto contributo alla discussione prima che ci sia un piano industriale che sia un'azienda che dovrebbe agire come un'industria ho dei dubbi visto che la capitale è gran parte pubblico e quindi credo che la prima cosa che dovrebbe fare è dare un servizio almeno con costi certi in diminuzione possibilmente nel tempo con zero utili seconda cosa le dico cosa pagano a San Michele Tagliamento che dovrebbe far parte del nostro testo prendiamo due a caso prendiamo alberghi con ristorante che credo non manchino da quelle parti allora alberghi con ristorante 3,9815 a Sastino di Livenza 4,905 birrerie pub altro a Sastino pagano 17,6153 a scusate a San Michele a Sastino i ristoranti pagano 22,750 sono esempi se lei guarda a Caorle è in linea con Sastino di Livenza quindi adesso loro ci spiegheranno anche vedo non so c'è il teatro San Michele mi sfugge sta roba perché pagano anche il teatro meno di noi o comunque questo è il contributo alla discussione ripeto sono questioni di lana caprina io voglio dire però se c'è la possibilità di mettere le mani si possono spalmare poi sono scelte politiche poi ripeto far mettere con qualsiasi criterio contabile 500.000 euro a bilancio a copertura su 1.700.000 voglio dire già sono assicurati che qualsiasi cosa succede il loro servizio viene pagato perché viene spalmato su già chi paga mi pare che ci sono delle condizioni capestro un po' eccessive ma sono discussioni ripeto che cascano e dico laddove si può lavorare si possa lavorare poi lo capiamo benissimo anche noi che questa qua è una decisione che arriva dal ma non so se sono scelte proprio politiche lungimiranti intelligenti ecco questo mi permetto di poi una una serie di società che sono a capitale praticamente il 90% pubblico dovrebbero avere altri fini quando stanno in piedi non fanno debiti è più che sufficiente non devono guadagnare devono educare devono mettere in pratica politiche che aiutino la gente a capire che molto probabilmente a certi atteggiamenti ci costano meno ma non devono fare utili cioè io non ho la speranza che l'ASBO fra due anni mi dia 50.000 euro indietro per quanto riguarda un grande piano industriale io vorrei semplicemente che almeno visto che sono in assenza di concorrenza perché ci dimentichiamo una cosa che molti di questi atti vengono presi perché noi non possiamo scegliere un altro consorzio cioè non c'è nessuno di noi che qua domani dice non voglio più l'ASBO e voglio verità voglio dire Alisea o un'altra cosa sono obbligato a fare quello che mi viene detto e consegnare alle condizioni che dicono loro e ai giorni che dicono loro alla tariffa che dicono loro è qualcosa che non funziona in questo regime è facile operare bisogna cominciare a operare anche i regimi di concorrenza e ora facciamo altri tipi di ragionamento comunque ripeto nel momento in cui c'è un capitale sociale che è interamente garantito da strutture pubbliche il compito è un altro non è quello di fare soldi è quello di fare un servizio almeno costo possibile e cercare l'equità che se c'è qualcuno che non paga dobbiamo cercarlo se poi non può pagare è un altro paio di maniche se qualcuno fa il furbo bisogna trovare il sistema per castigarlo perché non è che noi risolviamo il problema spalmando sugli altri perché abbiamo sempre fatto passare questo messaggio che tanto un euro a uno 50 centesimi ma non funziona così le cose stanno in piedi se tutti quanti contribuiscono poi se c'è qualcuno che non può e dimostra che non può la comunità se ne fa carico ma i furbi no capo gruppo se hai rotto il microfono è stato il consigliere Riccato sono io che devo prendere confidenza con questi nuovi microfoni sì poi c'è c'è questo altro ragionamento sul fondo dubbi sul fondo crediti di dubbia esigibilità no che dalla tabella su un milione e sette di di tari sono 486 mila 500 mila euro però lei vice sindaco prima ci ha detto che chi non paga sono i 20 30 mila euro all'anno ma non può non possono essere i 20 30 mila euro all'anno è vero che c'è stato spiegato che viene messa a copertura dell'ultima rata che è di fine dicembre e quindi quanto può incidere 250 mila 300 mila euro su 486 mila euro quindi vuol dire che ci sono dei crediti incagliati che sono lì da molto tempo e che forse non si riesce a portare a casa salvo poi tutti quelli che nel corso dell'anno la ragioneria porta in discarico perché ogni tanto c'è la determina dei discarichi dei crediti e anche lì ci sono 10 15 20 mila euro che vengono cancellati quindi c'è da fare un ragionamento sulla riscossione di chi come si diceva prima il consigliere Riccato magari non paga perché non può e quindi si fa un certo tipo di ragionamento o chi non paga perché ha fatto delle scelte di campo sì 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 vai Stefano allora parto dall'ultimo punto della questione di dubbi e esigibilità allora come dicevo prima sono come diranno temporalità diverse cioè quello che è il 20 30 40 mila euro che alla fine diciamo è quello che non incasseremo del credito di quello che è l'emesso del 2022 arriverà probabilmente fra 7 8 anni cioè ci sarà un montante iniziale molto più alto magari 500 mila euro perché appunto al 31 12 con la terza rata non avranno ancora pagato tutti poi diventerà 300 mila due mesi dopo poi diventerà 200 mila poi 100 mila nell'arco di 6 mesi eccetera eccetera poi come dicono i tecnici anche in commissione ci sarà una fascia molto meno aggredibile che diciamo alla fine porterà a quel valore che dicevo io però sono due cose che hanno come dire tempistiche e nature diverse per cui come ripeto non è non sono 500 mila euro all'anno che noi perdiamo in Italia se no sarebbe abbastanza molto grave quello che è il valore finale cioè quello che noi iscriviamo quest'anno è qualcosa quello che attenzione perché poi credito e dubbiabilità sono sul bilancio quello che poi invece è il non riscosso e scusate adesso i termini tecnici questa cosa non ricordo ma come viene definito ma insomma quello che io non sono più riuscito a incassare di un'annualità e che è stato effettivamente accertato che non si riesce più a incassare quello invece va nella tariffa e quindi sono due cose completamente diverse e quello come dicevo ha quel valore lì e questo è un aspetto poi per quanto riguarda invece le valutazioni che faceva il segnale di catto allora l'azienda ASUO ma anche Veritas per quello che ho visto non hanno il fine di fare utili non come dire non è previsto né in partenza né in itinere può succedere perché può succedere che si determinano degli utili derivanti da come dire un andamento diverso da quello che è il bilancio di previsione ma non è lo scopo quello di fare utili anzi lo scopo è esattamente quello che è stato detto cioè cercare di dare un servizio nelle migliori condizioni possibili ad un prezzo più basso possibile questo è lo scopo che hanno le nostre società e che sono società che sono in house per i quali non è vero che siamo obbligati e siamo in monopolio cioè in monopolio si determina quando il comune sceglie il tipo di affidamento cioè il comune ha fatto una delibera qualche anno fa dove ha affidato in house il servizio a Veritas eh scusate ad Asvo fino al a sua memoria mi pare 2038 ma potrebbe anche dire a un certo punto eh no io non lo voglio più dare in affidamento in house ad Asvo lo voglio dare a Veritas oppure posso fare gara punto quindi non è che è in monopolio nel momento in cui viene identificato il soggetto che lo gestirà per n anni non è che di per sé è in monopolio ok quindi non c'è un obbligo a scegliere diciamo che poi c'è una questione di convenienza a scegliere perché comunque se io faccio una gara come dicevo se Asvo ha un suo CDA che è frutto dei dei diciamo dei comuni soci più Veritas nel caso specifico l'indirizzo che viene dato è uno che è appunto quello di fare il servizio al minor costo possibile e nella migliore modalità possibile ma nel momento in cui io dovessi fare una gara europea e a quel punto l'azienda batte la pesca di Stoccolma non è che viene a farlo per fare pareggio non viene a farlo per fare utili e di conseguenza come dire il fine è un po' diverso poi per quanto riguarda l'esempio di San Michele tagliamento è un po' quello che stavo dicendo prima cioè questo è frutto di uno suddivisione quella che facciamo tra domestici e non domestici quella percentuale non dei parametri specifici delle singole voci a San Michele non so se sia un teatro ma quelle voci lì sono uguali per tutti perché sono quelle del metodo che dicevo prima che sono figlie di un decreto del 1999 la divisione cioè questa differenza sorge da due questioni uno i metri quadri totali cioè a San Michele tagliamento i metri quadri degli alberghi con il ristorante non ve lo so neanche quantificare ma potete solo immaginare voi quanto sia rispetto a quello che c'è a San Stino e questo è ovviamente direttamente collegato all'altro elemento che è il fatto che stiamo parlando di un comune litoraneo di conseguenza questo fa sì che ci sia una quantità di metri quadri molto più elevata di quello che è il diciamo quello di un comune dell'entroterra considerando però che non sarei che ve lo spiega io ve lo spieghi io che però l'attività quel tipo di attività lì fanno quattro mesi se va bene cinque se è tanto e di conseguenza hanno quelle metrature lì comunque sono presenti tutto l'anno e quindi vanno nel calcolo complessivo ma il ovviamente questo va a ridurre poi invece il contributo di tutti cioè se voi prendete le bollette dei domestici dei comuni litorani sono mediamente più basse di quelli dell'entroterra proprio perché ci sono le seconde case le seconde case che poi magari sono occupate qualche giorno all'anno in qualche caso che però pagano in proporzione molto di più di quanto non effettivamente utilizzino il servizio e quindi vanno però a dare una mano agli altri cioè a ridurre i costi per quelli che ci vivono 365 giorni all'anno se poi noi anche dovessimo decidere e quindi capito benissimo che questo come dire è un elemento come tanti altri che avvantaggiano perché una volta quando c'era lì ci era così anche per lo stesso principio ma diciamo che di fatto veniva spostato tutto il carico tributario sui immobili sugli immobili non residenziali e i residenti magari a Caorle a San Michele o non pagavano proprio lì sulla prima abitazione o comunque lo pagavano a valori molto più bassi degli altri e questo chiaramente è un tipo di ragionamento poi c'è un'altra valutazione che comunque potrebbe essere fatta che è quella di come dire muovere quelle percentuali che dicevo prima cioè tra domestico non domestico sapendo però che la somma è sempre quella cioè non è che se io vado a dire bene a San Stino mettiamo l'albergo con il ristorante 3,89 euro possiamo fare in un certo senso è un po' più complesso di così ma mettiamo a caso che si possa fare così perfetto il gettito mancante dagli alberghi con il ristorante che pesano tot metri quadri eccetera eccetera a San Stino qualcun altro lo va a pagare cioè non è che scompare è gratis vuol dire che se io li sposto dalle attività vanno a finire sui domestici no perché il principio base è che tutto quello che è nel piano economico finanziario deve essere pagato dai cittadini non perché lo decidiamo noi ma perché lo decidono le norme di conseguenza è come dire è un gioco è un gioco di spostamenti esclusivo cioè questo perché appunto il tutto si tiene all'interno dello stesso contenitore di conseguenza come dicevo o andiamo a spostare quelle percentuali però vuol dire che le utenze domestiche pagheranno di più oppure diciamo oppure deve diventarsi una spiaia anche un altro non so so parte la battuta ma vuol dire questo è il tema in particolare da San Michele ma anche le altre spiagge di solito hanno queste differenze proprio perché per i motivi che dicevo prima allora stiamo tentando di portare la discussione il più possibile credo che questa sera Asvo ha trovato un avvocato perfetto però restano sul piede io gli faccio semplicemente due domande signor vice sindaco se lei ha 3 milioni di euro da spendere vuole aprire un albergo a San Stino la prima cosa che guarda che cos'è il traffico e poi le spese se un albergo a San Stino di Livenza costa 19 mila euro l'anno di immondizie che vuol dire che sono circa 20 euro al giorno lo fa l'investimento o non lo fa se deve aprire un ristorante ci siamo mai chiesti perché a San Stino ultimamente non è stato aperto un ristorante fra le tante cose potrebbe esserci anche questa ragione adesso voglio dire che gli alberghi siano tanti che a San Michele mette siano tanti sono 6 mesi all'anno chiusi e pagano il servizio come 12 allora io dico si può mettere le mani si può spalmare perché questa tarifa non è mai stata modificata scusa un attimo scusa un attimo sono 10 anni 10 anni che gli alberghi e i ristoranti pagano 10 anni e se alla media di 15.000 euro all'anno noi grazie a Aswo grazie a chi abbiamo sottratto 150.000 euro di possibili investimenti questa è la realtà se invece di 150.000 fossero 100.000 50.000 potrebbero essere rimasti altre cose si possono dire questo è il conto economico che fa un imprenditore poi se le ragioni sono altre ce ne facciamo una ragione però voglio dire non è che tu in 20 anni non cambi una tarifa o se fai l'aumenti o non la spalmi o non prendi neanche in considerazione l'idea che si possono cambiare alcuni parametri con tutti i discorsi che lei ha fatto che sono giustificabili però voglio dire si è mai fatto un ragionamento di questo genere non lo so chiedo si è fatto sì quindi vuol dire che personalmente voi pensate che una birreria Sartino deve pagare ma paga punto non c'è problema però è anche vero che di conseguenza dovremmo fare altri ragionamenti nient'altro posso fare una domanda lei ha fatto una domanda a me io le faccio una domanda a lei perché se no ci giriamo intorno alla faccenda no? giusto che è chiaro che gli imprenditori fanno i ragionamenti con possibili ricavi e costi è chiaro che anche i 19 mila euro 20 mila euro di Sanstino sono in 12 mesi quelli di San Michele nel 95% dei casi sono in 6 mesi quindi se ne paga 18 mila ma in 6 mesi è qualcosa di molto diverso dai 20 mila 12 mesi però al netto di questo lasciamolo a parte un momento io alcuni ragionamenti li abbiamo fatti negli anni non è che non ci abbiamo mai pensato ma la domanda di fondo è bene vogliamo spostare la birreria facciamolo a pagare meno l'albergo facciamolo a pagare meno chi li paga questi costi? perché cioè come dicevo devono alla fine signor vice sindaco questa cosa la farò il giorno in cui i cittadini di Sardini mi daranno la possibilità di fare e le dico anche un'altra cosa a San Michele ci sono 7 milioni di presenze l'anno ecco quindi il costo dovrebbe essere molto più elevato perché San Michele praticamente d'estate non è San Michele è una città se posso solo per non riportare il confronto il confronto si si come parlare di un'ape e di una Lamborghini effettivamente i mezzi che serve comunque a muoverci ma tendenzialmente non sono la stessa cosa le considerazioni sono tante lo spalmare sulle utenze domestiche in comuni balneari è molto più semplice ad esempio che sui comuni dell'entroterra perché le utenze domestiche nostre sono utenze stanziali le utenze non le utenze domestiche dei comuni della costa sono tendenzialmente o persone che stanno là qualche mese e poi producono rifiuti per tre mesi anche se in una grande come fosse una città per tre mesi e poi non non si vedono più e nella maggior parte dei casi tra l'altro non votano in quel comune perché molto spesso almeno il resto del nucleo familiare ha la residenza in un'altra parte e alzare le tasse a chi non vota nel tuo comune è molto più semplice rispetto a chi vive stabilmente nel proprio comune dopo comunque le considerazioni i confronti sono completamente diversi nel senso che è un piano finanziario tipo quello di Caorle che è tipo il triplo il triplo del nostro che ovviamente tiene conto di molte altre difficoltà e necessità ovviamente proprio per le opportunità che hanno tant'è che anche credo negli investimenti ovviamente un imprenditore tiene conto per un centesimo credo di quanto gli costano i rifiuti perché se affittare un'attività di 100 metri a Sastino costa 1000 euro al mese 100 metri in centro a Caorle sì sì credo che però nell'incidenza se a me chiedono 4.000 euro al mese per un negozio in centro a Caorle e me ne chiedono 500 per un negozio in centro a Sastino in proporzione per fare la stessa attività se faccio il conto per uno spesso 50.000 euro altri 10.000 se i rifiuti costano 300 euro in più a Sastino rispetto a Caorle sicuramente incide incide in fianco di quell'elemento certo sono tutti gli elementi conseguenze quindi 6.000.000 e mezzo di presenze fanno sì che la presenza del componente alberghiera nel tessuto sia molto diversa come superficie rispetto alle nostre come dicevo prima tra le utenze io penso a Duna Verde Porto Santa Margherita Altanea e tutto ciò che ci sta dietro le presenze di residenti stabili barra togliendo anche quelli finti nel senso che poi c'è chi ha residenza la paga l'IMU ma questo è un altro paio di maniche però ok tolti tutti questi la maggior parte del resto delle tariffe la paga chi? La pagano i proprietari dei mobili che pagano una quota fissa a di là che stiano là un mese due mesi quattro mesi cinque mesi e il servizio ovviamente è parametrato a questo quindi sono confronti diversi io penso invece due cose una che è il generale e che può aiutare non perché devo fare l'avvocato all'asvo ma se noi pensiamo a Veritas pensiamo a Contarina pensiamo a qualsiasi azienda che si occupa in questo settore le politiche tra virgolette arrivano ovviamente fanno la differenza ma ci sono dei parametri dei recinti che sono definiti a monte sempre che hanno uno il primo valore aggiunto nell'incidenza poi sulla tariffa che è quello dato dalla modalità di raccolta e dalla raccolta differenziata e su questo noi siamo arrivati a posto per tutti i meriti dei cittadini e le considerazioni che facciamo prima c'è poi l'elemento dato dai piani gestionali noi spesso in questi anni abbiamo utilizzato perché si creano a volte degli utili che non sono previsti ma quando si creano come riferimento o per altri investimenti o perché nel piano industriale c'è lo smaltimento delle discariche la gestione pot mortem tutto quello che ci sta dietro problemi che sono comuni a tutte le aziende che si occupano di questi settori c'è poi un altro tema che è quello di quanto è influenzato tutto questo da una serie di elementi che sono esterni più o meno è lo stesso concetto che in questi giorni capita spesso che il cittadino ti dice vada che ormai non accendo neanche più la tv non scalda neanche più niente però uso molta meno corrente di prima e comunque pago 20 euro in più di prima poi dici sono di metà più bravo ho ridotto tutti i miei consumi eppure pago 20 euro in più di prima perché se il costo a metro cubo o il costo a kilowattora dell'energia è di un certo tipo seppur uno abbia ridotto ha ammortizzato un costo anche se usa molto meno e qua è un elemento che succede io penso che così per una visione più insieme probabilmente è una cosa molto più sensata alla luce di tutta quella volontà che di principio è giusta poi nei meccanismi non torna ma di principio è giusta dove lo Stato dice in tutti questi anni in tantissime aree in tantissime realtà questo tipo di gestione non ha dato sempre uno un risultato equilibrato quindi omogeneo in tutto il territorio due spesso determinate aziende le modalità di gestione non hanno avuto la stessa non dico solo trasparenza ma anche efficacia proprio perché c'era una partecipazione pubblica la possibilità di integrare molto spesso ci sono caricati costi su costi ed è il motivo per cui è cambiata la contabilità il motivo per cui per centomila ragionamenti per cercare di normare tutto questo quello che secondo me manca in questo pezzo di ragionamento è noi siamo un consiglio comunale al di là che poi le indicazioni possono dare il consiglio di bacino ma potremmo toglierlo da qua e portarlo là e questo ragionamento varrebbe lo stesso io che ho una azienda che funziona che non ha situazioni debitorie disastri o cose di questo tipo dove ho una raccolta alta efficace a fronte di tutta una serie di parametri a re a chi norma tutto questo deve dire benissimo e io da e noi da amministratori diciamo io voglio anche premiare questa cosa per cui voglio azzerare l'aumento voglio ridurre compatibilmente a dei parametri che uno può dare e dire benissimo è vero che sono comunque risorse comuni di tutti quanti ma io decido che quest'anno integriamo di come abbiamo fatto un giorno scorso utilizzando i fondi covid ma 50.000 euro 80.000 euro rispetto a una tabella a un plafond anche parametrato da Rera se vuole evitare che qualcuno faccia il furbo o no perché è votazione perché da 100.000 motivi e dire bene voglio dare un segnale perché ho bisogno di darlo perché gli ho chiesto sempre maggiore attenzione gli ho chiesto questo e questo staltro se i cinesi ne comprami a carta non so come dire non può essere che tutto lo sforzo uno dice bene dovrebbe arrivarmi un euro in meno solamente per apprezzare che ho fatto 3 camminare in più e che la raccolta da 86 e da 87 potrebbero normare tutto questo e noi avere lo spazio tra virgolette di manovra di dire a fronte di tutte queste condizioni che rispettiamo date dalla norma generale diciamo investiamo 40.000 euro delle risorse in modo tale che non sia più 28.000 euro 30.000 euro ma sia meno 10 perché venga fuori 3 centesimi in meno non so come dire a tutti quanti ma darebbe un senso perché poi ha anche il senso di premiare il senso educativo perché se no dopo ovviamente giustamente se noi guardiamo 8 anni fa 10 anni fa quei numeri di raccolta e oggi facessimo una simulazione 40% del giusto ragionamento di prima la raccolta del 60 rispetto a quella che abbiamo adesso ci farebbe vedere che pagheremo il 30% in più il 35% in più però ovviamente a fronte di questo ci vorrebbe un elemento tangibile perché se no dopo diventa difficile la percezione ecco non so come dire diventa difficile la percezione del fatto che anche perché alcune norme le stabilisce alcune altri elementi per quanto i cittadini siano sempre più educati attenti ma diventano impossibili ad esempio che si fa sempre per cui Napolitica sugli imballaggi che riducessi gli imballaggi mondo convenienza dovrebbe contribuire per 5.000 euro all'anno a tariffa dei rifiuti no loro fanno carta ci conviene anche meglio chi ne porta ancora però questi qua fanno una produzione di un volume di rifiuti che credo che il rapporto numero di libretti del mondo convenienza che pesa anche traetti all'uno che passa 4 volte all'anno 5 volte all'anno riportare sempre gli stessi almeno quelli degli offerti dei negozi cambia settimana per settimana ma questi hanno un'incidenza sulla produzione che anche se Sastino fosse completamente vuota ai cittadini questi comunque fanno produzione di carta quindi tutta una serie di politiche che a monte dovrebbero premiare seppur anche tante aziende si siano sempre più la riduzione di imballaggi e quant'altro perché nessuno ha la percezione di arrivare a rifiuto zero però poi ci sono delle cose che normalmente non succedono cioè che sono impossibili per cui a fronte di tutti questi paletti e lungi da me far l'avvocato di Asvo di Veritas ma credo che ci sia un equilibrio che dopo però si scontra a volte con tutta una serie di condizioni che fanno sì che poi alla fine venga fuori più uno più uno e mezzo più due con tutto quello che c'è perché l'elemento della fiscalità sui rifiuti e del fatto di avere la certezza e la riduzione dei strumenti per far sì che la gente paghi credo che tutti noi siamo convinti perché vale per i rifiuti ma vale per gli ospedali vale per tutti perché non è che ha chiesto la dichiarazione dei redditi a tutti coloro che hanno preso il covid anche se in maniera drammatizzante sarebbe stato da fare a un certo punto perché in alcuni non credo che ci sia una quota di evasione una quota di situazione e quindi su tutto questo ovviamente ci vorrebbe una politica dove se tutti pagano il proprio non c'è la necessità che poi intervenga un euro tutti quanti gli altri per pagare tariffe dagli altri non servirebbe per noi molte volte spendere perché poi quando ci arriva la cancellazione dei crediti noi che ci arriviamo ci arriviamo dopo che sono state espletate tutte le situazioni possibili spesso sono crediti di 8 10 12 anni fa che rimangono lì che le azioni da mettere in campo per provare per l'ennesima volta a ritentare recuperarli diventano impossibili per cui a un certo punto avanziamo 67 euro da una situazione del 2009 e ovviamente conviene accertare che tutto lì era stato percorso che non ci siano ulteriori spazi quindi poi la somma però purtroppo questo fa un po' parte di una dimensione sullo svuotamento dei consigli e chiudo rispetto a tutta una serie di politiche e di scelte questo sì nel senso che succede sempre più penso che la volontà sia trasversalmente riconosciuta da parte degli amministratori locali sul fatto che togliere tutto questo è un problema soprattutto dove le cose funzionano e ci sarebbe la voglia anche di mettere in campo una serie di idee o di spunti o di autonomia nelle scelte da un altro lato mi pare che a livello centrale invece questa necessità di armonizzare i sistemi come dicevo che parlano da un principio sensato ma che poi non sono omogenei o uguali in tutti i territori invece mi pare che sia un trend che la prendiamo da un lato e la prendiamo dall'altro poi alla fine mi pare che sia un elemento che sia molto condiviso perché si crede che nell'omogeneizzazione dei servizi poi si riesca a garantire un equilibrio cosa io per tanti elementi e per tante esperienze credo che non sia proprio così ma ci vorrebbe un omogeneo sistema di controllo e di repressione o di sanzione o di limitazione delle possibilità di scelta questo sì ma che uniforme ma dopodiché nel merito servirebbero altrimenti si bypassano tutta una serie di elementi e vengono a meno tutti i ragionamenti che facevamo prima perché bisogna mettere anche nelle condizioni salvo che a questo venga aggiunto un meccanismo che sarebbe quello della unione della fusione di stabilire standard minimi dove gli enti locali sotto i 30.000 devono diventare tutti un ente locale aggregato o meno ma siccome queste cose non partono manca un pezzo quindi o questo o quel perché altrimenti se no noi stiamo qua quasi a frustrarci l'animo e le idee la discussione come vede se lei ha pronto un documento da inontrare il consiglio di Baccino e Arera dove a determinate politiche di capacità di si possa mettere mano noi saremo qua per votarlo da qualche parte dobbiamo cominciare lanciamo un messaggio poi se qualcun altro lo vuole raccogliere lo raccoglie ma intanto politicamente facciamo vedere che esistiamo come consiglio comunale i rappresentanti di una comunità che si è spesa e ha cercato di fare nel tempo la miglior differenziata possibile è il momento scriviamo un documento lo prepariamo per la prossima volta facciamo la commissione lo votiamo lo giriamo ai comuni e se qualcuno ci segue tanto bene e se no arrivederci grazie noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto se non altri i cittadini sastinesi riconosceranno a noi la buona volontà di averli in qualche modo tutelati e aver cercato di premiare la loro bontà va bene? bene sì sono d'accordo metterei in votazione l'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2023 quindi favorevoli contrari 5 contrari astenuti nessuno c'è l'immediata eseguibilità del punto favorevoli contrari astenuti come sopra il punto numero 4 il punto numero 5 come abbiamo fatto in altre occasioni proporrei di discuterli assieme poi li voteremo separatamente uno è quello che riguarda l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP e il bilancio di previsione 2023 2025 tra l'altro colgo l'occasione anche da subito insomma di siccome poi mi dimentico le cose di ringraziare il revisore unico il dottor Giuseppe Mauro che questa sera è qui presente con noi mi fa piacere insieme alla responsabile del servizio finanziario la dottoressa Pasquon la nota di aggiornamento del DUP e viene aggiornato ovviamente in base alla definizione del bilancio di previsione 2023 2025 un bilancio di previsione che pareggia nel 2023 per 23 milioni 127 mila 690 euro nel 2024 a 16 milioni 926 mila nel 2025 per 9 milioni 826 mila euro alle previsioni di competenza si affiancano per l'esercizio 2023 le previsioni di cassa sempre con riferimento all'esercizio le entrate tributarie ammontano a 4 milioni 760 mila euro le entrate a trasferimenti correnti sono 2 milioni 434 mila 958 euro le entrate extra tributarie quindi da vendita di servizi locazioni di immobili e sanzioni a titolo esemplificativo sono pari a 2 milioni e 73 mila euro per un totale di entrate correnti pare a 9 milioni 268 mila a fronte di queste entrate la spesa correnta è ammonta a 9 milioni e 5 mila euro e la spesa per rimborso prestiti a 503 mila euro per quanto riguarda la parte investimenti le entrate in conto capitale sono previste per 11 milioni 112 mila euro e quelle da accensione di prestiti per 300 mila euro mentre le spese in conto capitale al titolo secondo ammontano a 1 milione 855 mila euro nelle entrate in conto capitale sono iscritti i vari contributi da fondi PNRR per un totale di 10 milioni e 575 mila euro le entrate e le spese per conto terzi delle partite di giro pareggiano a 1 milione 763 mila euro nonostante la spesa ovviamente corrente continua a risentire dell'incremento di spesa per i consumi energetici il raggiungimento del pareggio di bilancio di previsione è stato conseguito ovviamente senza che vi siano state modifiche manovre sulle entrate correnti per quanto riguarda le entrate tributarie la previsione degli stanziamenti delle entrate tributarie è in flessione rispetto all'assestato del 2022 di circa 160 mila euro tale incremento è sostanzialmente dovuto alla diminuzione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria che hanno comunque un carattere di straordinarietà per quanto riguarda invece i contributi e i trasferimenti correnti abbiamo entrate da trasferimenti registrano una riduzione rispetto all'assestato del 2022 di circa 100 mila euro per la riduzione di alcuni contributi statali che nel solo 2022 tipo il caro bollette contributo per i centri estivi per il trasporto scolastico alcuni interventi che comunque ci portavamo avanti a degli trasferimenti una tantum da parte di altri enti e c'è la riduzione del contributo regionale per il progetto di inserimento lavorativo di 53 mila euro per quanto riguarda le entrate extra tributarie anche le entrate registrano una flessione rispetto al 2022 dovuta sostanzialmente alla riduzione di 120 mila euro delle entrate da sanzioni del codice della strada da rimborso delle spese elettorali di 53 mila euro e per introiti di rimborsi e rimborsi da imprese 45 mila euro la spesa corrente registra una riduzione di circa 1 milione e 200 mila euro rispetto al 2022 ma in linea con la spesa impegnata più il fondo crediti di dubbia esigibilità il nuovo contratto del personale incide per 120 mila euro gli incentivi per le funzioni tecniche di 34 mila euro il fondo crediti di dubbia esigibilità per 100 mila e le spese per i consumi energetici gli stanziamenti di spesa consentono di garantire tutti i servizi essenziali dell'ente rinviando a reperimento di nuove risorse e le spese relative ai servizi che migliorano la qualità della vita dei cittadini così come solitamente siamo portati a intenderli tutte quelle spese non obbligatorie come anticipato anche in commissione questo è un bilancio che nasce con la necessità di approvarlo il prima possibile insomma l'Aggiunta l'ha predisposto e lavorato tra la fine e l'inizio del 2023 nel quale si è garantiti tutti i servizi essenziali si è garantito il mantenimento di quegli impegni ovviamente non solo contrattuali ma anche di continuità dei servizi che sono in essere delegando come è capitato già negli ultimi due o tre anni abbiamo cercato sempre di approvare il bilancio il prima possibile per poi successivamente una volta che in parte con il consultivo in parte con l'accertamento e la definizione di contributi o altri trasferimenti riuscire a poi allargare le maglie e dare risposta anche a tutta una serie di necessità che emergono poi nel corso dell'anno per quanto riguarda l'entrata e la spesa in conto capitale nel 2023 si prevedono entrate per contributi per 10 milioni di euro di cui la stragrande maggioranza arriva da fondi relativi al PNRR che vanno a finanziare diversi interventi dal milione di euro su un milione e 160 complessivo che è relativo agli interventi di adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo con tutto l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico l'adeguamento sismico la realizzazione di quel percorso ciclopedonale presentato sempre nell'ordine finanziamenti con il comune di Ceggia di 5 milioni di euro il rifacimento degli impianti di illuminazione per quanto riguarda gli impianti sportivi di Corbolone San Stino e la salute sempre nell'ambito dell'efficientamento energetico la realizzazione della messa della scuola primaria Silvio Appellico che ha un costo di 600 mila euro di cui 400 sono stati finanziati dal PNRR la realizzazione del nuovo nido comunale che anche questo ha avuto un milione di euro di finanziamento e quindi si sta procedendo insomma proprio anche grazie al fatto che approveremo il bilancio alla definizione di tutti gli elementi per la realizzazione dell'opera il progetto di mitigazione del rischio idraulico quello presentato in accordo insomma con tutti i comuni del comprensorio del Veneto orientale che è stato demandato poi come coordinamento del consorzio di bonifica per la messa in sicurezza della realizzazione dell'idrovola nel probasso e l'adeguamento delle reti meteoriche in gran parte insomma tutta una serie di aree individuate dal consorzio di bonifica che metterà definitivamente in sicurezza idraulica il territorio per 2 milioni e mezzo di euro poi ci sono un'altra serie di contributi per un totale che arriva attorno ai 200 mila euro un po' più di 200 mila euro che sono quelli relativi l'avevamo già visto anche nell'altro consiglio all'adeguamento di tutti quei servizi tecnologici dalla piattaforma Pago.pa alla piattaforma nazionale per le notifiche digitali alle manutenzioni del sito interna istituzionale tutte le normative agide quindi con tutta la questione della gestione dei flusci è un tema molto ricco da questo punto di vista che riguarda la digitalizzazione per tutte quelle che sono le istanze online e l'adeguamento della piattaforma per l'app IO ecco questo sono quei 10 milioni e 220 mila euro che dicevo relativi a richieste principali all'interno del PNRR di cui una buona parte sono già stati finanziati 80 mila euro per il contributo da PSL relativo all'interscambio bicibarca al Giralivenza 147 mila euro quale contributo del conto termico ANZEB per la parte non finanziata all'interno del PNRR sempre relativo ai lavori di adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo e poi 300 mila euro quale contributo regionale per l'adeguamento sismico della scuola primaria Don Michele Martina la spesa per investimenti nel 2023 ammonta quindi a 11 milioni 855 mila euro per quanto riguarda le opere pubbliche nel piano triannale sono previsti nel 2024 investimenti per il miglioramento sismico della scuola secondaria Antoniolo del capoluogo l'adeguamento della scuola secondaria primo grado di la salute per 1 milione 300 mila euro e lavori per il miglioramento della sicurezza di strade comunali per 150 mila euro nel 2025 sono previsti una serie di altri interventi sia sulla messa in sicurezza delle strade comunali sia per la riqualificazione degli spazi su Corso Cavour questo ovviamente è il piano triannale ovviamente fra qualche mese qualcuno deciderà di cambiarlo tutto lo farà però ovviamente rispetto a ovviamente alla definizione non solo del bilancio non solo l'aggiornamento del DUP e anche ovviamente tenendo conto che nella programmazione vanno sempre inseriti tutta una serie di interventi proprio per permetterci come abbiamo visto insomma come sta fortunatamente succedendo di poterci giocare delle buone carte rispetto ai finanziamenti che stanno arrivando che per alcuni dei quali siamo ancora in ballo e in attesa di definizioni e confermi ufficiali ci permettono insomma di aver colto diverse opportunità di quelle previste dalle linee di finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza ecco quindi in estrema sintesi dal punto di vista del noto di aggiornamento che fa ovviamente riferimento alle indicazioni e si adegua insomma poi a quello che viene approvato nel bilancio i principi sui cardine sono stati quelli di garantire i servizi garantire il funzionamento del funzionamento dell'ente definire la programmazione recepire all'interno del bilancio tutta una serie di finanziamenti di cui abbiamo avuto notizia qualcun altro dovremmo fare sicuramente le variazioni perché sono arrivati dopo anche quando è stata definita insomma è iniziato l'iter dell'approvazione del bilancio della note aggiornamento del DUP lasciando poi la parte in cui andremo a intervenire con il consuntivo quella della puntuale insomma definizione di ulteriori capitoli di spesa e di bilancio ecco questo in estrema estrema sintesi la parola al capogruppo canali grazie sindaco ha un ritardo dal momento della della sessione sulla delibera del DUP mi permetto un suggerimento per il futuro eventualmente perché nel deliberato si dice che le parti le parti le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato e nelle premesse si dice che in relazione alle mutate esigenze finanziarie degli uffici e in funzione dell'approvazione del bilancio di previsione la giunta ha predisposto l'aggiornamento del DUP il quale tiene conto delle previsioni di bilancio tiene conto delle richieste dei responsabili di servizio modifica la programmazione dei lavori pubblici modifica il piano triennale del fabbisogno del personale modifica il piano delle alienazioni questo lo dovremo trovare nel documento che è il DUP 2023-2025 che però è composto da 158 pagine e queste specifiche non sono riportate o in una tabellina riassuntiva alla fine o evidenziate all'interno del documento quindi uno va a votare va a votare il documento in buona fede per carità però non riesce a cogliere quelle che sono queste specifiche per quanto riguarda invece il era un chiarimento che mi premeva chiedere il bilancio di previsione sempre sul fondo di crediti dubbia esigibilità noto che per il 2023 a fronte di 3 milioni e 57 mila euro di stanziamenti dobbiamo accantonare 999 mila euro e spicci l'anno successivo invece sono previsti 1 milione 336 mila euro di stanziamenti e 511 mila euro di accantonamento cos'è che fa cambiare questa cifra è la tassa sui rifiuti io volevo chiedere come mai per il 2024 non è indicata nel fondo mentre per tutte le altre voci che compongono gli stanziamenti c'è il 23 24 e 25 grazie grazie sì sicuramente può essere nel primo punto toccato dal punto di vista dell'illustrazione sia più facile a cogliere siccome magari avviene facciamo abitualmente per i regolamenti un specchietto dove ciò che viene cambiato in modo tale che sia più facilmente leggibile identificabile per quanto riguarda il secondo punto viste le presenze illustri in sala ne approfitterai visto che è un punto di natura molto tecnica quello scusate quello della questione dei rifiuti è legato al passaggio alla TARIP cioè il fondo credit dubbi e esigibilità si riduce perché l'anno prossimo entriamo nel regime TARIP e di conseguenza tutta la partita va in capo ad ASVO completamente e di conseguenza noi non dobbiamo più mettere un fondo credit di dubbi e esigibilità cioè tornando un po' a quello che si diceva prima cioè noi abbiamo un fondo credit di dubbi e esigibilità sulla TARIP ma poi dopo potranno accoraggiare i tecnici che sono lì perché chiaramente considera che noi la bolletta la paghiamo noi ad ASVO e i cittadini come dire ce la ce la pagano con i tempi che si diceva prima nel momento in cui viene determinato che effettivamente c'è poi un valore che non è stato pagato allora quello va nelle perdite e va nel piano economico finanziario però io devo avere quel montante che mi serve per coprire il fatto che i cittadini non me le pagano tutte il 31 dicembre 2022 o 2023 mentre io ad ASVO devo ripagarli andando in TARIP invece appunto esce completamente del bilancio del comune e tutta l'attività viene fatta da ASVO per cui è ASVO che è in cassa e ASVO che fa tutte le operazioni se l'ho detta magari in maniera molto forse poco tecnica ma se vorranno integrarmi sarò ben lieto grazie non so se ci sono altri interventi se no porrei in votazione l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2023 2025 favorevoli contrari astenuti 5 astenuti il punto è approvato c'è l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti approvato con gli stessi voti prima il punto numero 5 bilancio di previsione 2023 2025 favorevoli contrari astenuti 5 5 astenuti e anche qui c'è l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti come prima 5 astenuti il punto è approvato ah scusa si manchia Simone va bene importa bene ti metto come contrario approfitto prima di iniziare il punto 6 per salutare e ringraziare il revisore dottor Mauro si prego prego non lo sentiamo però noi vorremmo partecipare anche noi alle parole del revisore c'è ritardo ho imparato che c'è ritardo no allora l'indicazione che ci dà il ministero degli interni attraverso i corsi di formazione obbligatoria che facciamo noi revisori degli enti locali e l'indicazione è quella di raccomandare alle amministrazioni locali che vanno in esercizio provvisorio di non andare perché lo strumento di bilancio è un strumento di programmazione indispensabile e quindi il ministero pur emettendo un decreto di rinvio al 31 marzo raccomando comunque che noi revisori facciamo la raccomandazione quindi io però mi aspettavo la domanda in realtà ma non avendola ricevuta comunque faccio la raccomandazione perché è una raccomandazione generale volevo sottolineare che non l'ho riportata formalmente sulla relazione perché veramente quest'anno è stato un anno straordinario e che quindi le amministrazioni che sono andati in esercizio provvisorio sicuramente hanno delle buone ragioni determinate da un flusso di costi assolutamente straordinari e anche a delle entrate incerte relative al PNRR insomma cose che sapete e che sono state illustrate scusate se vi ho rubato questo fuori punto all'ordine del giorno ma credevo che potesse essere interessante a meno culturalmente certo grazie grazie del contributo bene il punto numero 6 sono le modifiche integrazioni al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione esposizione pubblicitaria del canone per le aree e gli spazi mercatagli come abbiamo avuto modo di vedere in commissione si è accolta l'occasione di una proposta di modifica di alcune parti di questo regolamento che è arrivata dal gruppo consigliare per il canale di sindaco i quali avevano proposto una serie di modifiche è stata accolta l'occasione di mettere mano complessivamente a questo regolamento per il canone unico patrimoniale che vado in sintesi insomma poi abbiamo avuto modo di approfondire punto per punto insomma se sarà necessario ovviamente lo faremo anche qui questa sera le varie modifiche sono stati fatti degli interventi di allineamento dei termini di denuncia della scadenza e di pagamento in modo tale che non vi fossero scadenze troppo ravvicinate al tempo stesso effetti sui ritardi di versamento proprio per una coincidenza temporale rispetto alle date una modifica che è stata inserita rispetto alla possibilità di richiedere la reattivizzazione che quindi ha visto una riduzione a 600 euro come minimo per chiedere la riduzione prevedendo la possibilità di fare quattro rate trimestrali quindi in modo tale di venire incontro anche alla possibilità dei minimi che sono stati inseriti per quanto riguarda le esenzioni del pagamento del canone sono stati inseriti insomma un comma che prima non era presente all'interno che riguarda le associazioni di volontariato o comunque le richieste di occupazioni che abbiano come finalità la raccolta fondi a sostegno di altre iniziative ovviamente di volontariato con finalità sociali per quanto riguarda le riduzioni e le maggiorazioni sono state precisate alcuni aspetti relativi all'occupazione delle aree per gli espositori in occasione di fere e sagre paesane e per l'occupazione realizzata dagli esercizi commerciali per l'esposizione di merci che erano già di prassi definite insomma cercando di avere un trattamento acevolato aspettandote nei confronti dei senza fini di lucro siano esse attività politiche culturali o sportive ma passo opportuno insomma in occasione della modifica del regolamento di mettere nero su bianco all'interno del testo del regolamento questa opportunità sono state introdotte alcune precisazioni ne avevamo un problema relativamente alle riduzioni che venivano previste a chi faceva una richiesta temporanea di occupazione di suolo pubblico che nel caso chiedesse una proroga perdeva tra virgolette il diritto alle riduzioni quindi pagava il primo mese una cifra x per poi trovarsene una più alta per una proroga di 15 giorni quindi è stato uniformato quindi se c'è una proroga viene autorizzata e viene autorizzata ovviamente pagherà la proporzione ma comunque la stessa la stessa tariffa la stessa tariffa a metro per le occupazioni temporanee che sono superiori ai 120 giorni è prevista una riduzione del 60% questo per evitare una situazione come abbiamo visto in modo di approfondire che in particolar modo per quelle attività che magari chiedevano una temporaneità lunga non so all'estate per una terrazza di un bar di una terrazza di un'attività commerciale faceva sì che spesso ci arrivassero le richieste annuali perché per assurdo insomma si rischiava di spendere di più a chiedere la temporanea una lunga temporanea rispetto che l'annualità invece con questo meccanismo e una serie di simulazioni fatte all'ufficio fa sì che ci sia un equilibrio tra le richieste e l'effettivo pagamento e che quindi permetta all'esercente di richiedere lo spazio per il tempo necessario di pagare una cifra che sia proporzionata a questo e per noi anche la gestione non di licenze annuali perché poi come abbiamo esemplificato ci sono delle licenze che poi le terrazze sono tolte durante il periodo invernale però formalmente qualsiasi attività che si volesse fare in quei luoghi andrebbe quasi richiesta la possibilità a chi ha un'autorizzazione e quindi una concessione per tutto per tutto l'anno e quindi mette ordine da questo punto di vista si inserisce che ovviamente le riduzioni sono cumulabili che già avveniva questo ma è il caso di esplicitarlo proprio perché magari a volte gli studi e i commercialisti o chi segue in queste pratiche le aziende e gli imprenditori in loco non sempre sono imprenditori in loco e che quindi magari seguono perseguamente quanto previsto dal regolamento e ovviamente è opportuno che in questo si è specificato tutto abbiamo previsto così come avviene per gli altri tributi la la riduzione insomma la possibilità che vi sia una riduzione rispetto all'impatto della sanzione per chi paga entro 90 giorni così come avviene per gli altri tributi cosa che prima non era prevista e quindi partiva la sanzione piena anche pagando qualche giorno qualche giorno dopo ecco prevediamo insomma viene inserito un articolo che va incontro anche qui alla possibilità di permettere la regolarizzazione spontanea dei mancati pagamenti così come avviene per gli altri tributi c'è una norma transitoria finale tra le modifiche che riguarda l'annualità 2023 che norma quell'aspetto che dicevo prima delle autorizzazioni annuali o temporanee e che dice che per chi e le aziende che già hanno provveduto a rinoltrare la domanda hanno già avuto l'autorizzazione magari hanno anche già pagato la concessione all'occupazione per tutto l'anno 2023 e che quindi a fronte dell'approvazione di questo regolamento insomma in discussione in consiglio potrebbero dire beh a questo punto ovviamente chiedo di poter variare fare la richiesta per il periodo giusto e quindi di cogliere insomma questa possibilità che viene messa all'interno del regolamento quindi è previsto che per l'anno 2023 vi sia per questi la possibilità di l'ufficio si farà carico di darne informazione a chi ha già fatto questa richiesta e ha già l'autorizzazione in mano di chiedere la possibilità che questa venga convertita in un'autorizzazione temporanea con il ricalcolo della spesa e quindi in caso col rimborso del canone versato questo in sintesi e in velocità il contenuto delle modifiche al regolamento è aperto il dibattito e il capogruppo canale grazie la nostra proposta di modifica è stata anche l'occasione da parte dell'amministrazione quindi di rivedere un po' il regolamento e quindi la cosa è positivamente ben fatta ci sarebbe un aspetto ma lo rivedremo magari prossimamente lo pongo sul tavolo come attenzione nei giorni scorsi ho parlato con alcuni imprenditori e mi facevano presente che le esposizioni pubblicitarie anche loro hanno un importante canone e quindi sarebbe da valutare se anche lì è possibile consentire loro di accedere alla rateizzazione perché alcuni mi dicevano che per alcune tabelle sono qualche migliaio di euro di canone da versare subito e quindi magari spalmati nel corso dell'anno ecco questa è un'ulteriore valutazione grazie no ecco se non se non vado con di fatto la definizione del regolamento per il canone unico di fatto quella modifica che noi apportiamo e che nasce dai ragionamenti che abbiamo fatto sulle occupazioni temporanee però di fatto lo verifichiamo con puntualità però riguarda tutti i tributi previsti all'interno di questo regolamento e quindi anche quelli per le superfici pubblicitarie perché riguarda sia le esposizioni pubblicitarie che il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi mercatali o delle aree come fanno per i cantieri insomma per le occupazioni temporanee quindi in teoria lo verifico ma se è così sappiamo che automaticamente avranno la possibilità di fare questa cosa se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto numero 6 modifiche integrazioni al vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone per le aree e spazi mercatali favorevoli contrari astenuti approvato all'unanimità il punto numero 7 è l'approvazione del nuovo schema di convenzione ah ok scusatemi c'è anche l'immediata eseguibilità del punto quindi favorevoli contrari astenuti approvato all'unanimità il punto numero 7 è l'approvazione del nuovo schema di convenzione Stefano ha lasciato Stefano è scollegato l'abbiamo perso manca ma è sì quindi il nuovo schema per la gestione del servizio di tesoreria comunale noi abbiamo già avuto modo di affrontare questo punto qualche consiglio fa nel quale avevamo approvato questo schema di convenzione quindi di fatto il capitolato di gara che va in gara per la concessione del servizio di tesoreria a fronte del fatto che non vi siano state formalizzate offerte a fronte di una riflessione fatta insieme al comune di Caorle col quale congiuntamente affidiamo il servizio la proposta che avviene in questa ulteriore modifica sono due uno la durata della convenzione che il periodo primo gennaio 2023 31 dicembre 2027 viene sostituito con primo luglio proprio perché c'è questa sorta di prologa quindi primo luglio 2023 31 dicembre 2027 quindi di fatto dura 4 anni e mezzo per fare in modo che non siano 5 anni ma che coincida sempre con la fine con la fine dell'anno anche per una questione proprio di passaggi di tesoreria contabile quando dovesse avvenire il successivo cambiamento e l'altro aspetto che metteva come elemento diciamo vincolante per la presentazione dell'offerta il fatto che vi fosse la presenza di uno sportello bancario all'interno dei rispettivi comuni viene messo come valore aggiunto all'oggetto di offerta e quindi può essere un quid un elemento in più col quale l'istituto di credito si propone quindi nella valutazione che non è solo economica ma è complessiva venga riconosciuto un valore aggiunto al fatto che sia questo perché il fatto di avere lo sportello bancario garantito che per altri quattro anni e mezzo vi sia uno sportello di quell'istituto che intende proporre di quel gruppo la proposta abbiamo capito anche da chi aveva preso contatti per interessarsi a partecipare alla gara essere un po' l'elemento di rimette quindi non è un elemento vincolante ma diventa un valore aggiunto all'offerta che verrà fatta durante la gara se non ci sono interventi pongo in votazione l'approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale favorevoli contrari astenuti approvato all'unanimità c'è l'immediata esegibilità quindi favorevoli contrari astenuti il punto è approvato come prima con la presenza anche del vice sindaco si è ricollegato si scusate a proposito non so se è possibile precedentemente mi è saltata la connessione quindi volevo dare il voto favorevole al precedente punto ma non so se sia possibile recuperarlo grazie abbiamo messo che è andato al bar si contavamo sul tuo appoggio il punto numero 8 è l'occupazione temporanea di spazi a repubblica per banchetti raccolte firme propaganda politica associazioni benefiche modifica ubicazione dei posti questa è una proposta che arriva dalla polizia locale rispetto al fatto che in virtù di una serie di modifiche delle condizioni con le quali questo consiglio ha determinato non solo il regolamento per questo tipo di attività ma aveva anche stabilito fisicamente dei luoghi con delle postazioni attribuite numericamente alle associazioni ai gruppi o partiti politici per svolgere delle attività all'interno dei mercati settimanali del capoluogo e della salute con e in virtù di una serie di occupazioni di aree in concessioni che sono avvenute in questi mesi in virtù del fatto che sono cambiate anche un po' alcuni aspetti nel sviluppo dei singoli mercati la proposta che viene fatta è quella di ridefinire queste postazioni proponendo che per il capoluogo quelle destinate alle attività di propaganda politica dell'associazione volontariato di fatto spariscano i due punti che prima erano previsti a ridosso della fontana ma che tutti vadano in fila sui due lati di piazza di piazza goldoni dove già erano oggi previsti i posti gli altri sei posti che non erano oltre ai due insomma dando sempre la priorità ovviamente ai primi due fronte diciamo Fontana verso la Fontana per capirci in caso di richiesta all'associazione di volontariato e a seguire alla raccolta firme o alle attività di propaganda politica e per quanto riguarda la salute dove c'è stata anche là una riorganizzazione del mercato che oltre a una distribuzione leggermente diversa degli spazi occupati dai banchi prevede che per questioni di viabilità venga chiuso ogni mercoledì il passaggio che c'è tra la delegazione diciamo l'ex Orlandini e la Ferramenta oggi Ferramenta la proposta è quella di mantenere una postazione che è in piazzale della Repubblica a ridosso di dove finisce l'area pedonale ma è di prevedere due postazioni per i gazebi che possono avere le richieste insomma a parte di associazioni o di partiti politici diciamo in continuità alla linea dei banchi esistenti andando che costeggia di fatto quello che è l'attraversamento pedonale quindi prevedendone uno sul lato e uno sull'altro in modo tale che rimangano comunque in una via e in un passaggio collegato al mercato ma che formalmente sia uno spazio previsto perché nelle ultime occasioni insomma c'è stata necessità di fare delle assegnazioni un po' precarie e visto insomma che fra qualche mese saremo chiamati a votare quindi potrebbe esserci una richiesta la polizia locale dice è meglio avere tutto messo in ordine in modo tale che poi non ci siano elementi di difficoltà per noi in individuare gli spazi e di magari dover dire di vietare la richiesta o di dare il no a qualcuno oppure sì di doverci trovare insomma anche gli stessi richiedenti e non aver una risposta precisa prima del giorno stesso della presenza se non ci sono interventi pongo in votazione il punto che riguarda l'occupazione temporale di spazi a repubbliche per banchetti e quant'altro favorevoli contrari astenuti approvato all'unanimità anche per questo c'è l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti il punto è approvato l'ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dello schema dei patti parasociali di Veritas SPA questo è un addempimento per il quale tutti i comuni soci di Veritas SPA noi siamo sia soci direttamente con Veritas e anche indirettamente all'interno di di ASVO tutti i comuni soci sono chiamati ad approvarli tendenzialmente in questi mesi li hanno approvati praticamente tutti i comuni credo che probabilmente saremo l'ultimo comune con il nostro 0034% che andremo a approvarlo di fatto questi patti che il codice civile hanno come stabilisce che abbiano come fine quello di stabilizzare gli assenti proprietari o il governo delle società attraverso la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto ponendo il limite al trasferimento delle attive azioni e disciplinando le modalità per l'esercizio anche congiunto di un'influenza sulle società e quindi di fatto dice i patti devono normare se c'è necessità i rapporti tra i comuni o gli enti soci della stessa in questo caso i patti di veritas che disciplinano anche l'esercizio del controllo analogo sulla società va a integrare le disposizioni normative aumentando le modalità di controllo attraverso la regolamentazione della governance della società stabilendo le modalità di nomina da parte dei gruppi di soci riconducibili alla società fuse ovviamente veritas con l'andare del tempo in questi mesi ha fatto una serie di assorbimenti di fusioni di incorporazioni di società che precedentemente erano soci e che poi sono state inglobate e quindi c'è stata una discussione ovviamente tra le amministrazioni comunali o comunque i territori e veritas per la definizione dei componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale l'attribuzione di particolari deleghe o competenze che è un problema relativo molto all'area ritoranea ex soci di Asia e l'Isea dove di fatto vengono delegati ai componenti del CDA di espressione di alcuni di questi ex soci di fatto un'attività puntuale controllo e verifica per conto dei comuni di quelle aree e la previsione dei comitati di controllo locali formati dai soci affuse cioè hanno stabilito che di fatto anche se il comitato di controllo a quel punto noi oggi con ASVO tutte queste modifiche le ho spiegate per incompletenza di formazione ma nessuna tocca in alcun modo gli aspetti relativi a ASVO e alla presenza in verità sulle prospettive future spiego questo meccanismo perché magari potrà tornare utile un giorno chi si troverà a discutere di tutto questo ad esempio con le società che sono state fuse noi oggi abbiamo come ASVO un nostro CDA ovviamente abbiamo un'assemblea dei soci abbiamo un'assemblea dei sindaci che viene solitamente convocata prima all'assemblea dei soci nella quale discutiamo solo tra amministratori pubblici prima che arrivino i soci quindi fra cui anche Veritas ovviamente tutta una serie di ragioni che poi ovviamente nel momento in cui una società prendiamo ASIO e LISEA è stata fusa incorporata da Veritas ovviamente non ha più un suo organismo territoriale perché tutto va a far capo ovviamente della società e in questo caso nei patti parasociali hanno loro previsto che vi sia la possibilità di comitati di controlli locali formati dai soci delle società fuse per la trattazione di argomenti che ovviamente non discendono dalle questioni generali di gestione della società o meno ma per tutte le tematiche relative a quell'area i sindaci che abitualmente e i soci di quell'area erano abituati a incontrarsi a discutere delle proprie questioni continueranno a farlo proprio perché all'interno dei patti parasociali sono state previste queste modifiche e ampliate rispetto a quelle che erano precedentemente previste quindi noi lo approviamo in quanto soci dal punto di vista di soci di ASVO all'interno di Veritas questi patti sociali non toccano le modifiche non toccano in nessun modo la nostra rappresentanza la partecipazione però ovviamente dobbiamo siamo chiamati anche noi ad approvarli bene se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'approvazione dello schema dei patti parasociali di Veritas SPA favorevoli contrari astenuti il punto approvato all'enemunità non serve le mediate esegibilità perché poi questo di fatto sarà oggetto di successiva convocazione e firma da parte di tutti i soci il consiglio è chiuso grazie non è l'ultimo quindi ne avremo un altro o almeno due da fare quindi posso dire buona serata e buonanotte grazie e buonanotte a tutti buonanotte buonanotte grazie 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 grazie